Quale può essere a tuo avviso la chiave della partita di domani? È una partita di duelli, è una partita che giochiamo contro una squadra solida, compatta, che sta facendo un ottimo cammino, che si gioca alla salvezza, su un campo particolare, che ha delle condizioni particolari, queste sono tutte cose che bisogna prendere in considerazione e quindi mi aspetto una partita dove i duelli probabilmente saranno determinati e che dovrà essere giocata con grandissima attenzione. Giovanni Castiglioni, Varese Sport, nelle ultime 5 solo Alessandria a 15 e Olbi a 13 hanno fatto meglio degli 11 punti della Gianna e 5 delle migliori 7 appartengono alla parte bassa della classifica. Solo questione di agonismo e motivazioni o le differenze tecniche sono meno marcate di quanto si crede abitualmente? Sono tutte e due cose secondo me, una bella lettura perché è un po' di tempo che sto parlando di questo concetto. è diverso giocare le ultime partite di campionato rispetto a quello che il resto è quasi il campionato nel campionato dove ci vogliono determinate caratteristiche, dove le difficoltà sotto tanti punti di vista aumentano. ci mettiamo anche un equilibrio generale nel nostro girone secondo me più marcato rispetto agli altri tra le squadre che compongono l'altra classifica e quelle del bassa. E quindi penso che anche questa è una lettura che sommata alle cose che ha detto lei, tutte e due che sono d'accordo, fanno in modo che esce fuori una classifica del genere, escono fuori dei risultati, è un cammino di ogni squadra di questo tipo.